Autostrade per l'Italia ha programmato investimenti in Toscana per quasi 7 miliardi di euro, di cui 6 e mezzo, destinati a nuove opere per ammodernare e ampliare soprattutto la 1 e la 11, ma non solo, mentre sono già stati ultimati lavori per 4 miliardi. I dati sono stati diffusi durante il seminario La Rete del Futuro Aspi Dialoga con il Territorio, che si è tenuto a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati. La Regione Toscana si sta impegnando con forza su molti progetti. Innanzitutto la terza corsia Firenze-Prato-Pistoia, che passa dalla realizzazione dello svincolo di Peretola e tutta una serie di opere complementari che sono connesse all'attuale percorso della terza corsia. Penso ad esempio a quello che è l'impegno per la viabilità ordinaria che dal casello di Firenzuola ci porti direttamente nella Valle del Santerno a Firenzuola con uno scorrimento, una fluidificazione della circolazione, come a quelli che erano gli impegni sul comune di Barberino del Mugello, come ad esempio, e questo a me sta particolarmente a cuore, il collegamento diretto in autostrada dal comune di Scandicci. L'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tommase, ha ricordato l'inaugurazione del nuovo tracciato della 1 fra Barberino e Firenze Nord e il potenziamento del tratto fra Firenze Sud e Incisa, i cui lavori stanno proseguendo, ma ci sono altri obiettivi a breve scadenza. La partenza del potenziamento della 11, quindi partendo dal nodo di Peretola fino a Pistoia, è un tratto fondamentale per il sistema toscano, per il sistema paese e l'inizio dei lavori, oltre all'otto 2 della Firenze Sud e dell'Incisa Valdarno, che è un altro tratto importantissimo, noi completeremo in un momento di difficoltà per l'incremento dei prezzi, la rivisitazione dei quadri economici da sottoporre al Ministero e siamo convinti, visto che abbiamo ottenuto l'approvazione del piano economico-finanziario il 5 di maggio, di una celerissima approvazione da parte del Ministero per poter poi aprire queste importanti iniziative a partire dal settembre di quest'anno. Al seminario hanno partecipato anche i sindaci di molti comuni toscani. Oggi devo dire che ci sono tante buone notizie. Anzitutto l'avvio della cantiere di tutti i lavori che interessano lo svincolo di Peretola e l'imbocco della A11. L'autostrade ha già avviato la cantierizzazione dell'area. Lo stesso vale per il tratto incisa Firenze Sud. Altro aspetto molto importante che riguarda non solo il Comune di Firenze ma soprattutto la città metropolitana è la viabilità complessiva nazionale e quello ovviamente che si sviluppa intorno all'area metropolitana fiorentina. Molte cose, c'è tanto lavoro da fare. A questo punto il tavolo di oggi serve proprio a dare il via a questi interventi attesi da molti anni che miglioreranno fortemente tutta la mobilità metropolitana che interessa un milione e un milione e mezzo di persone. Grazie a tutti.